buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti oggi più che mai c'è necessità assoluta dei bull glasses non so se avete presente di cosa sto parlando sono occhiali verdi come vedete sono abbastanza verdi e servono a proteggere dai dump quindi insomma quando se guardo il grafico adesso vedo degli old time high no scherzi a parte il nostro gesto scaramantico per iniziare così la live di oggi allora che dire da che cosa possiamo partire beh ce n'è di cose da dire oggi c'è ilon musk che è un po impazzito non si capisce bene il motivo per cui abbia deciso di iniziare a screditare bitcoin di punto in bianco senza neanche averlo venduto perché ha detto di non averlo venduto io non so penso che sia vero anche perché dire una falsità del genere penso che non lo so avrebbe anche delle ripercussioni e quindi che dire non lo so non riesco proprio a farmi un quadro della situazione a capire se in realtà sta accumulando più bitcoin e ha cercato di portare in basso il prezzo per questa ragione se in realtà non lo so vuole pompare dogecoin perché ha segretamente acquistato dogecoin con tesla ripeto non so proprio che cosa pensare l'unica cosa che io faccio in queste situazioni è cercare di rimanere razionale anche se dall'intro non si direbbe guardando il grafico il grafico parla abbastanza chiaro ne abbiamo seguito l'andamento anche nei giorni scorsi abbiamo visto un po ecco come quali potevano essere i vari esiti adesso proprio oggi stiamo affrontando un livello chiave ecco il cui approccio il cui esito sarà assolutamente fondamentale e assolutamente decisivo per quello che sarà l'andamento poi nelle prossime settimane sto parlando ovviamente del nostro supportone a 44 45 mila che era un'area di prezzo che è un sorvegliato speciale già da tempo perché se vi ricordate abbiamo impostato il nostro super range un po strano perché in alto a questi massimi crescenti in basso ha il suo equal low ma a prescindere da questo ecco è proprio lì quello che importa perché è da febbraio quindi da mesi che stiamo un po oscillando lateralizzando stiamo palleggiando all'interno di quest'area e se quest'area diventa un'area di top ragazzi potremmo non vedercela benissimo perché se facciamo uno zoom out potete vedere che di fatto questa potrebbe diventare poi un'area di top di fatto ok quindi dobbiamo seguire con molta attenzione l'andamento nei prossimi giorni vedere come ci comportiamo ovviamente lo andiamo a vedere poi nel con un livello maggiore di dettaglio quando analizziamo i grafici e poi in base a quello decideremo se io deciderò se aprire lo short di copertura mi viene da ridere perché immagino già la vostra reazione ma capiremo appunto se vogliamo fare un ritracciamento un po più profondo oppure se da qui si presenterà domanda e sarà una base di ripartenza verso l'alto perché al momento tutto è possibile parlando di ilon musk che è la nostra notizia del giorno visto che comunque dobbiamo un po fare il nostro solito riassunto di quello che è successo in questi giorni di quelle novità pillole eccetera eccetera in realtà di nuovo non c'è molto perché non ripeto non non ci sono notizie particolari in questo periodo si parla esclusivamente della follia di ilon musk che se andiamo a vedere un po i suoi tweet possiamo andare a dare un'occhiata alle accuse tra virgolette che ha mosso verso bitcoin allora andando indietro dunque adesso io me le ricordo però non so esattamente dove erano la prima cosa che aveva detto era la solita riguardante la il non essere ecologico l'incentivo di utilizzo dei combustibili fossili per il mining il carbone soprattutto in cina eccetera eccetera l'abbiamo già trattato nella nella scorsa live questo tema poi in realtà non si è fermato qui perché anche detto che ha centralizzato parlava dei mining pool della centralizzazione dei mining pool e giustamente qualcuno tra l'altro gli aveva fatto notare io volevo andare a recuperare proprio questo questo battibecco apposta perché eccolo qua forse è qua sotto sotto a questo thread gli avevano fatto notare adesso al di là di non voglio stare a snocciolare tutto dunque da qualche parte c'era il discorso della centralizzazione ed era stato smentito vabbè niente non so dove possa essere e il discorso della centralizzazione eccolo qua era quello che ha detto è questo che diceva che quando c'è stato quel quell'inondazione del mining pool c'è stato un callo dell'ash rate abbastanza importante però giustamente qualcuno li aveva fatto notare adesso qui purtroppo non vedo la risposta forse perché non è stata scritta qua ma è stato citato e rituitato gli aveva fatto notare che la centralizzazione dei mining pool non vuol dire centralizzazione del network perché comunque gli utenti finali sono coloro che hanno in mano il potere all'interno del network e anche i miner stessi anche se fanno riferimento ad un pool si possono comunque andare a spostare altrove e quindi ecco era un discorso un po fine a se stesso poi c'era stato un paragone con paypal c'era stato un po di battibecco sulla centralizzazione che apparentemente ilon musk non ha molto capito il tema della decentralizzazione perché la legava molto appunto al mining e al di là di questo è stato detto anche che dogecoin è più efficiente perché le transazioni sono più veloci e ci sono ci sono i blocchi messi meglio che poi alla fine era un discorso che lasciava faceva ricordare un po quel discorso al tempo del fork di bitcoin con bitcoin cash quando dicevano che bitcoin non poteva funzionare perché i blocchi erano troppo piccoli non so se vi ricordate ed era stato proposto bitcoin cash per ovviare al problema dicendo è più veloce è meno costoso in termini di fee è il vero bitcoin eccetera 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 quindi era un po un già risentito fatto sta che l'obiettivo non ho capito qual era ecco come dicevo un po all'inizio di questa live io non sono riuscito a capire l'obiettivo finale perché poi ha ammesso di non anzi prima aveva lasciato presagire di aver venduto bitcoin da parte di tesla perché qualcuno aveva scritto e se continuate così a a odiarlo io lo capisco se dovesse vendere i bitcoin e lui ha detto sì effettivamente hai ragione una roba del genere in inglese chiaramente e allora tutti hanno iniziato a speculare la cnbc ha scritto tesla probabilmente ha venduto bitcoin speculazioni su speculazioni e poi lui ha detto per chiarire la speculazione tesla non ha venduto nulla e quindi non capisco il motivo di far crollare il prezzo in questo modo se poi tu li hai ancora cioè davvero sfugge alla mia comprensione magari ripeto ne sta accumulando altri magari ha accumulato dogecoin vuol far pompare dogecoin non lo so non riesco a darmi un perché o magari è semplicemente così un po caratteropatico fatto sta che vi chiedo anche a voi secondo voi cosa vuole combinare sto Elon Musk ditemi un po quello che ne pensate perché non io veramente ho finito le idee detto questo allora noi andiamo a vedere le vostre domandozze come si suol dire che oggi siete tantissimi mi avete completamente impallato la chat vediamo se riesco a risalire ecco la chat vediamolo 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 si è fumato un bel sì anche secondo me potrebbe essere stato quello perché non lo vedo molto sul pezzo Elon Musk in questo periodo lo vedo un po un po confuso ecco possiamo utilizzare questo termine allora forse sono riuscito a recuperare la vostra le vostre domande ma ragazzi siete siete troppi mi spiace ma dovete andare no scherzo allora 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 vediamo se ce la facciamo tac dunque dunque poi non è che produrre batterie per la tesla sia tanto più green sì effettivamente le batterie anche quelle poi lo smaltimento sono tutto un tema un po un po di questo su questa onda ecco il tema della dell'ecologia è molto delicato da trattare a tutto tondo ciao luca la grande come sempre spendiamo due parole su xvs e sul suo airdrop sempre sul pezzo come sempre allora su xvs tra l'altro avevo valutato l'idea di costruire una posizione neutrale cioè acquistarli e sciortarli per ottenere le airdrop perché in realtà xvs non lo detengo e non lo volevo neanche detenere e quindi c'era c'era un po quell'idea lì come come in tutti i casi no quando ci sono gli airdrop a me viene la la malsana idea appunto di sciortarlo su su binance ad esempio su un exchange che lo permette detenendolo così fai lo snapshot e hai i tuoi xvs poi chiudi le posizioni e non hai né profitto né perdita e alla fine tu puoi tranquillamente riscattare le airdrop senza esporti al prezzo di xvs anche perché a cavallo degli airdrop e poi in una situazione come questa dove il mercato è molto instabile è un po un casino hai perso il pettine oggi no purtroppo il motivo ormai mi avete smascherato cioè il fatto il motivo per cui ho posticipato un po le live è il mio allenamento e quindi alla fine torno mi butto un po d'acqua addosso mi sciacquo poi la doccia la faccio bene dopo perché altrimenti anziché alle sette e mezza arriverai alle otto alle nove ciao luca ti volevo chiedere una tua opinione allora il mio obiettivo è quello di accumulare più bitcoin possibile ora nonostante i dump il mio portafoglio è ai massimi livelli in valore di bitcoin e fin qui andiamo bene ma essendo in alt season ho paura a convertire perché si sa dopo una discesa c'è sempre una salita e in alt season le alt performano meglio tu cosa faresti se il tuo obiettivo fosse uguale al mio guarda innanzitutto l'idea secondo me di fondo dovrebbe essere di avere una certa percentuale già allocata cioè di avere idea no di come allocare la cioè il tuo portafoglio tra altcoin bitcoin ed eventualmente liquidità se sei interessato alla liquidità e pertanto il in base a questo poi scegliere come andare a operare in queste situazioni adesso hai ragione c'è alt season però potrebbe valer la pena fare un ribilanciamento ogni tanto stare un po a travasare da dalle altcoin a bitcoin cioè sì dalle altcoin a bitcoin perché a furia di salire poi il portafoglio si sbilancia a favore delle altcoin e quindi appunto ogni tanto è come se fosse un take profit in bitcoin non è una cattiva idea in questo modo tu consolidi la tua posizione in bitcoin e aumenti come giustamente dicevi tu il tuo ammontare il tuo controvalore in bitcoin stessi oggi la dominance ha avuto un attimino di inciampo al contrario cioè di candelina verde perché di solito questi scossoni su bitcoin vanno a influire un po negativamente sulle altcoin io sono curioso di vedere adesso nei prossimi giorni anche in base a come si comporterà bitcoin quindi se perderà definitivamente quel supporto che dicevamo prima se lo recupererà insomma in che direzione si vorrà muovere sono curioso di vedere l'andamento della dominance in base proprio a quello perché se continuasse a scendere non lo so cioè sarebbe quasi la prima volta che accade non so voi vi ricordate mai di una fase così correttiva così imponente dal punto di vista correttivo perché ridendo e scherzando dai massimi abbiamo già perso guardate un ben 33 per cento cioè non è comunque una una di quelle correzioncine che dici massiva è una flessione insomma meno 33 per cento tra un po è un dimezzamento del prezzo nel giro comunque di un mese e mezzo un mese due mesi giù di lì e quindi di solito le altcoin con queste correzioni importanti venivano prosciugate ancora di più vi ricordate no quello che è il classico andamento di bitcoin che sale poi stabilizza un attimino mentre lì fermo che non sa dove andare le altcoin danno il meglio di sé per poi prosciugarsi ancora con bitcoin che fa la sua prossima mossa rialzo ribasso che sia in questo caso ecco farebbe strano vedere una correzione che prosegue perdendo anche supporti importanti ed avendo anche dei flash crash perché oggi oggi ieri qualche giorno fa ci sono stati dei dump repentini no e nonostante questo le altcoin non hanno subito più di tanto effettivamente la mia posizione su etereum ad esempio è invariata è ancora long e se guardate il grafico non fa neanche più paura di cioè non fa neanche pensare di voler invertire cioè ancora molto precoce da quel punto di vista lì di solito quando c'erano queste discese di bitcoin quantomeno si vedeva il candelone rosso bello marcato che andava comunque a dare il primo segno di cedimento strutturale della dell'andamento bullish di dell'altcoin in questione vedremo comunque è un caso molto curioso e molto particolare perché c'è sempre del nuovo ecco nelle cripto e quindi ti direi abbi una bella strategia con allocazione di capitale ribilancia periodicamente in questo modo sei senza pensieri perché non ti poni il problema di dover entrare uscire nel momento giusto e anche se c'è una novità non è un particolare problema perché appunto tu hai il tuo piano d'azione allora gira in rete un tweet di poche ore fa dove in risposta qualcuno dice che potrebbe venderli tutti e damparci brutalmente ah sì poche ore fa boh ha cambiato di nuova idea io non so veramente cosa pensare punto 2 cosa ne pensi del discorso del ciclo annuale di bitcoin che vedrebbe correzioni pesanti nelle prossime settimane guarda ti dico quello che penso cioè io non sto a guardare tanto la ciclicità io sto solo vedendo che adesso stiamo rischiando di perdere uno e due supporti importanti e in base a questo io credo che si deciderà quello che è l'andamento poi nel prossimo immediato futuro quindi io ho gli occhi veramente puntati sulla price action di questi giorni perché in base a questo si può decidere se aprire un bel setup long perché nel caso in cui reagiamo bene potrebbe essere una bella una bella idea aprire un setup long e invece se ahimè lo perdiamo e non c'è barlume di domanda insomma bisogna iniziare a pensare a difendersi 2.2 cosa no quello l'ho già letto oggi mi sono trovato questo warning sull'app di ledger sai cosa di cosa si tratta quale warning non lo so attenzione alle app di ledger che girano un sacco di fake soprattutto con android ti prego apri lo short luke che poi godiamo tutti apri lo short che ripartiamo va bene dai prima o poi lo apro ciao luca e vi avviso ovviamente giuro che siete i primi a saperlo ci daresti una chicca per un investimento di 500 euro alto rischio alto rendimento grazie guarda dipende nel senso l'investimento di 500 euro alto rischio alto rendimento cioè mi sa tanto che tu vuoi la scommessa di turno lo sai che non devi chiederle a me perché io non sono un tipo da scommesse selezionati un altcoin che secondo te ha tanto potenziale ed è sottovalutata e allocaci quel capitale lì non saprei che altro dire e poi altrimenti magari buttali anche in un pool di in un farming pool di quali adulti apy buttali dico e sto usando il termine giusto apposta perché non è un investimento e quindi è un po ecco un po gambling ma doggo when doggo si è sto doggo me l'avete scillato in una maniera incredibile aspettate che adesso lo vado a riprendere dov'è che era c'era qualcuno di voi che me l'ha mandato su telegram e mi avete fatto morire da ridere perché con sto doggo che è una la nuova meme coin che è tipo il meme di 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 spetta lo vado ad aprire il meme di doge coin cioè il meme del meme e questo poi è il sito più bello che io abbia mai visto cioè noi facevamo tutte le analisi fondamentali no vi ricordate si andiamo a vedere il sito fatto bene il team il progetto qui c'è tutto guardate se questo non è un sito fatto bene io non so che cosa deve esserlo cioè guardate che roadmap una roadmap del genere non l'ho mai vista e quindi ragazzi questo doggo c'è poco da fare guardatelo con i vostri occhi o vi condivido il link qui nella chat perché veramente un sito fatto così bene era da tanto tempo che non lo vedevo e quindi è cioè sicuramente un buon progetto oserei dire non non ci sono veramente dubbi sulla bontà di questo progetto allora torniamo seri come lo vedi ethereum consigli di convertire bitcoin in bitcoin e poi tenere fino a fine anno amici miei purtroppo non non dovete farmi queste domande cioè io non vi posso consigliare ovviamente cosa fare io vi posso dire quello che sto facendo io io al momento la mia allocazione è sempre quella no con la percentuale su ethereum e quella su bitcoin la la posizione speculativa su ethereum ce l'ho ancora aperta perché semplicemente cioè è in uptrend non ci come vi facevo vedere poco fa non ci sono segni di downtrend è saltato è andato in crash dog è saltato il server di dog bene gli abbiamo portato troppo traffico ve l'avevo detto che era un sito con i con i contro cosiddetti era veramente 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 hanno allocato tante risorse nella costruzione di quel sito vedi questo è un segno che comunque non dampano i token per investire per valuta fiat da usare sicuramente è un altro lato positivo scherzi a parte allora torniamo anche qua mi va a scatti tra un po mi salta anche a me il server penso quindi il fatto che abbia tweetato sui livelli chiave di fibonacci è un caso guarda ma sai che io ti dico cioè non credo che centri così al 100 per cento il on masca perché io credo che sia solo un po un catalizzatore una scusa quasi del cioè per per dampare per perdere questo range perché comunque è da tempo che siamo in iperestensione lo diciamo da tanto siamo in lateralità eravamo proprio lì per attaccare il supporto più importante in assoluto e proprio quando lo andiamo ad approcciare tac il nostro ilon masch va a tweetare per abbatterlo non lo so io a volte mi domando ma viene prima il grafico viene prima il tweet ed è una riflessione che non lo so non so cosa pensare ecco potresti analizzare btt usdt grazie va bene va bene btt usdt tac allora quanti siamo 1800 ragazzi siete in 1829 altro che doggo io vi voglio ne voglio 2000 oggi vi voglio vedere in 2000 e tra l'altro su youtube siamo più di 80.000 e io qui vi do la mia parola che il giorno che arriviamo a 100.000 facciamo uno di quei giveaway che cioè ragazzi ve lo sognate per tutto l'anno recuperiamo tutte le perdite che che il dump di ilon masch ci ha fatto fare col mio giveaway avete la mia parola quindi spingete e dunque a tal proposito vabbè lasciate che vi scilli anche un po il mio canale youtube scusate perché magari qua c'è qualcuno che mi segue su twitch ma non su youtube non lo so potrebbe succedere chi lo sa il tuo canale eccoci qua tac e io ve lo super scillo qua sotto così andate ad abbattere anche i server di youtube a furia di saltarci dentro e iscrivervi allora ritorniamo a noi con btt che purtroppo 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 è in ribasso e non accenna minimamente alla domanda quindi per me è un no assoluto avevamo visto sulle quattro ore se non erro c'era qua un una zona iniziale di supporto ma poi è stata clamorosamente persa ritestata dal basso prosecuzione ribassista quindi non c'è trippa per gatti btt è assolutamente un no c'è da aspettare una bella inversione un po bella spinta anche cioè vorrei vedere dei segni di domanda importanti un candelone verde una un engulfing bullish un doppio minimo con breakout cose di questo tipo che ancora non si vedono adesso siamo in lower highs lower lows e quindi magari in zona 0,00377 che è qua giù potrebbe scatenarsi una prima reazione ma per ora non è così tra l'altro vi dico anche un'altra curiosità su bitcoin guardate le liquidazioni che di solito quando ci sono questi andamenti no un po strani un po di flash crash movimenti improvvisi di solito vengono liquidate una quantità industriale di posizioni ecco oggi non è così perché guardate ecco ha saltato il grafico volevo far vedere questo guardate le liquidazioni di oggi che sono in totale vabbè 2 miliardi non sono poche però in confronto a quelle del 17 di aprile vi ricordate il 17 di aprile che era il primo segno no il primo strattone che ha dato bitcoin questo qua 17 di aprile qua questo candellone brutto e vi ricordate mamma mia che storia questo candellone qua che è stato un po cioè eravamo tutti bullish in una maniera incredibile senza senso proprio perché avevamo appena fatto un nuovo massimo stavamo correggendo abbiamo fatto un po di flessione io mi immagino la quantità di long che sono stati aperti e poi bram 10 miliardi di liquidazioni in un giorno niente questo per dire che guardate quanto meno è rispetto a quel giorno lì cioè stiamo parlando di un quinto neanche di liquidazioni e quindi niente così giusto a titolo di curiosità non che voglia dire qualcosa ma per per far capire che comunque la partecipazione degli stop loss a questo movimento è molto molto minore poi procediamo con le domande allora cosa ne pensi della nuova coin chia la nuova coin chia me la sto approfondendo anch'io sto un amico della community sta facendo dei test e poi stiamo valutando di fare un video con un po di dati alla mano per capire quanto si guadagna quanto durano gli hard disk e gli ssd punto di break even un po di dati ecco per non fare il solito video superficiale secondo te è iniziato il bear market è la domanda del secolo questa ragazzi allora in realtà se è iniziato il bear market o no è presto per dirlo perché comunque noi abbiamo ancora una bella speranza di in questi giorni andare a prendere un po di io vi sto spoilerando già un po di analisi è però guardatevela perché ne varrà la pena anche dopo abbiamo la possibilità di andare a pizzicare la liquidità qui sotto e poi rientrare nel range questo per me sarebbe un setup long veramente da non perdere e quindi quello sarebbe il caso per cui no non è ancora iniziato il bear market cioè qua siamo ancora virtualmente in lateralità però se perdiamo questa questa costruzione laterale questo range e iniziamo a chiudere in particolare qua sotto perché qua siamo ancora in zona franca qui c'è un altro bel supporto se iniziamo ad andare a chiudere qua sotto e a fare dei nuovi lower low ragazzi io inizio a sbilanciarmi un attimino e a propendere di più verso il bear market quindi come sempre è ancora tutto da decidere perché adesso siamo lì siamo proprio addosso a quel livello chiave quel livello chiave ci farà capire se c'è ancora domanda disposta a comprare se c'è domanda disposta a comprare e va ad assorbire quest'ultimo movimento quindi ripeto chiudere qua e rientrare dentro o addirittura rientrare fin quassù quindi recuperare anche questo low questo è un bellissimo segno non è un segno bearish è un segno bullish questo ed è da setup long perché il macro al momento è ancora bullish è borderline ma è bullish quindi la risposta vera è no non è ancora adesso iniziato il bear market se nei prossimi giorni perdiamo il supporto perdiamo l'altro supporto iniziamo facciamo un bearish retest e andiamo qua giù e così via e allora ragazzi lì le cose cambiano e potrebbe assolutamente iniziare anche un bear market un po più duraturo perché io vi ricordo il livello di estensione a cui ci troviamo ok quindi questo potrebbe essere addirittura un engulfing bearish sul mensile ancora tutto da vedere però potrebbe esserlo e potrebbe andarsi a formare un costrutto simile a questo a cui poi seguono purtroppo un po di mesi di ritracciamento ok non nego la possibilità è dovuto a un fino a un certo punto perché estendere così tanto e non correggere mai è male io sono contento se correggiamo per un po spero non per un anno e secondo me questa volta comunque c'è molto più interesse ad acquistare e non credo che la correzione sarà così d'impatto e così duratura però a me fa piacere vedere comunque una correzione come si deve proprio perché ristabilizza il mercato pone nuove basi solide dalle quali poi eventualmente ripartire quindi meglio una correzione oggi che un bear market che dura il quadruplo domani e quindi ben venga io la mia opinione ve la dico poi predire quando accadrà chiaramente non si può si può seguire il mercato giorno dopo giorno ed essere pronti nel momento in cui vediamo i primi segni di inciampo ed agire di conseguenza difendendo le posizioni bene allora tac 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 eccoci qua andiamo avanti con le nostre domandozze allora a quindi bitcoin è centralizzato doge invece no esatto pure doge tra altro è molto più centralizzato di bitcoin guardati wallet com'è distribuita nei wallet dunque c'è un modo per vedere da grafico qualche sito dove sono situati gli stop loss o take profit di massa purtroppo no cioè sarebbe bello se esistesse però ce lo possiamo immaginare possiamo dire questo allora possiamo pensare che dove ci sono dei livelli testati tante volte visibili tra l'altro dai time frame più elevati lì di solito si annidano molti stop di ordini che sono andati lungo il trend ti faccio un esempio guarda allora immaginati qui no siamo arrivati qua ritracciamo e poi pam riparte qua tra l'altro c'era già questo rimbalzino e quindi chi magari è entrato qui long o anche qui dentro long per far questa candela verde dove potrebbe mai aver messo lo stop loss con buonissima probabilità da queste parti perché comunque uno dice bene c'è un segno di ripresa di domanda io seguo questa possibilità e se mi sbaglio cioè mi sbaglio nel caso in cui torniamo invece a fare nuovi minimi ci sta come ragionamento e quindi lo stop loss deve sposarsi esattamente con questo concetto e quindi più volte accade cioè se c'è un supporto testato una due tre quattro cinque volte allora ancora più stop loss ci si vanno a infilare sotto perché un qualcuno entra qua qualcuno entra qua qualcuno entra qua qualcuno è entrato prima e tutti quanti hanno messo verosimilmente lo stop loss lì e quindi ecco l'unica cosa che si può fare è fare uno sforzo di immaginazione e andare a vedere le aree dove si è palesata improvvisamente domanda offerta nel caso di stop loss di short e ipotizzare che più il time frame è alto perché se sto guardando sul giornaliero e vedo comunque un'area papabile di stop loss è una cosa se lo sto guardando sul settimanale è ancora più evidente ok perché molti più trader lo vedono e molti più trader possono aver ragito in questa maniera e in particolare se ci sono confluenze di più cose tipo il supporto fibonacci una qualsiasi cosa che vi può venire in mente come indicatore per posizionare uno stop loss quindi questo è un po il metodo per immaginare dove si potrebbero trovare stop loss poi dunque 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 puoi vedere cake busd assolutamente sì ilon avrà ricevuto una telefonata dal dipartimento del tesoro americano ma mi sa che se continua così una telefonatina gliela fanno è perché sta un po facendo non lo so un po di manipolazione poi non so se cioè se gli hanno già detto qualcosa sembra che lui possa fare un po quello che vuole anche sull'azionario l'aveva fatto boh allora cake busd purtroppo anche lui è un po sta un po soffrendo quello che è l'andamento di bitcoin quindi è in fase di flessione al momento ci troviamo nella prima area di rilevanza oserei dire perché definirla supporto non è proprio correttissimo abbiamo una parte appunto di lateralità e quindi è un'area che in qualche modo vuole dire qualcosa 1 e 1 2 invece sono i supporti 22 7 18.9 e quindi vedendo come reagiremo su di essi potremmo capire se vorrà rimbalzare oppure no purtroppo anche se vorrà rimbalzare io aspetterei ad aprire una posizione long perché c'è un rischio dato dal fatto che guardate qui abbiamo toppato in alto poi ritracciamo rimbalziamo e se facciamo un lower high c'è un po il rischio poi di andare a costruire un top ok lower high equal low e poi rompiamo ribasso e c'è l'inversione confermata quindi purtroppo non è da long ma di coppie in usd al momento da long non credo che ce ne siano vediamo cake btc invece che dice cake btc anche lui è un po in dubbio perché qua c'era un range sulle quattro ore ci stiamo un po navigando dentro e dobbiamo un po capire se vogliamo tenerlo oppure no altrimenti c'è qua sotto 4880 come prossimo supporto vediamo vediamo perché c'è ancora tutto da capire non ha un bellissimo grafico è molto esteso ha perso il primo supporto non andrei proprio a cercare a forza il long qua sopra dire la verità poi 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 dunque 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 come vedi cake sul medio lungo termine l'abbiamo appena visto scusate se faccio un po fatica a rispondere ma veramente è a scatti la chat ilo sta letteralmente shortando il treasury di tesla con twitter un'ottima mossa oserei dire un'ottima mossa allora luca l'ho chiesto anche in discord su binance tutto quello che si disegna sui grafici per fare analisi tecnica se fatto loggando da un pc non lo ritrovo loggando da un altro sai come fare per far sì che rimanga vincolato all'account piuttosto che al pc caspita mi metti in difficoltà non so se è un non so se è legato ai cookies magari non saprei non saprei io ti direi di farlo su trading view anziché su binance così te lo salvi sul tuo layout anche su quello gratuito è non non stai a pensare a nient'altro glass node ha riportato la vendita di 20.000 bitcoin prima del primo tweet vabbè se si scopre adesso che ha venduto cioè viene massacrato ilon musk ragazzi io fossi lui non andrei più in giro basta parlare di ilon è l'unica cosa di cui si parla se c'è la fine è la notizia del giorno dobbiamo un po capire è vero cioè io sono il primo a odiare tutto sto circo odiare o amare anche perché le cripto vivono un po di queste cose ma scherzi a parte cioè io l'ho scritto anche in un mio di tweet se questo circo continua i bitcoin in dampa io cioè non mi interessa cioè non è che sclero perché cala il prezzo ho una visione estremamente di lungo termine sulle cripto e su bitcoin e quella non cambia anzi i fondamentali sono più forti che mai qualcuno mi ha chiesto ma che fondamentali beh guardate voi stessi allora il discorso degli etf in fase di approvazione magari non li approveranno neanche stavolta grazie al nostro amico ilon che fa del casino e spammala la cosa della della manipolazione vabbè non importa però anche lì un po alla volta in canada sono già stati approvati ci sono più strumenti finanziari più mercati e quant'altro la defi cioè per me la defi è il driver principale di quest'ultimo ciclo anche per bitcoin perché tu lo puoi tokenizzare bitcoin sulla bsc su ethereum su solana sulle block chain alternative che stanno nascendo e quindi non c'è niente da dire cioè ci sono delle ragioni per tenere le cripto lì dove sono cioè perché venderle ok il discorso della volatilità quello è un discorso a parte più speculativo ma da holder perché venderle per fiat quando puoi tokenizzarle usare la defi per ottenere un rendimento sulle stesse molto più alto e molto più agevole cioè non c'è paragone veramente io sto iniziando a dire non so se voi avete provato la defi ve ne renderete conto chi non se ne rende conto di solito a chi non l'ha ancora provata ma se la provi cioè come fai poi a tornare indietro agli strumenti di investimento tradizionali cioè veramente è impossibile io lo reputo una cosa veramente su un altro livello e per me questo è il fondamentale con la f maiuscola cos'è questa defi la finanza decentralizzata qualcuno chiede puoi dare un'occhiata a pancake bunny e al suo prezzo a tal proposito grazie va bene va bene allora banni banni dov'è a mamma mia non c'è su su binance dunque purtroppo 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 non ho il grafico sotto mano c'è rocket banni che non c'entra niente niente mi dispiace ma non posso aiutare vogliamo la sigla e la sigla c'era all'inizio dunque non non credo che il buon ilon sia folle anzi pensiero mio il mining è profittevole ma ad ora c'è parecchio shortage sui transistor silicio e quant'altro e parecchi componenti delle gpu sono presenti ecco mi ha saltato il messaggio niente non riesco non riesco a leggere un messaggio lungo perché scrivete troppe cose aiuto no mi interessava anche questo messaggio perché era una cosa un po fuori dal coro e niente purtroppo non ce la faccio non ce la posso fare allora vado in fondo facciamo così con le domande così non non mi salta tutto allora volevo chiederti cosa ne pensi di carura scusami per lo spam ma ci sono mille messaggi al secondo peggio dell'ash rate di ethereum e adesso tra l'altro non so se avete visto ma iniziano ad arrivare anche su polkadot le prime possibilità di parachain quindi è un momento secondo me bello caldo per polkadot e carura cioè per me è assolutamente una cioè se si riesce a partecipare ben venga ma altrimenti è un progetto da tenere sotto stretta osservazione perché carura è la versione di akala sulla su kusama anziché su polkadot ed è veramente uno dei progetti più importanti più interessanti su polkadot stesso allora ma su wallet hardware se a se su wallet hardware non vengono supportate alcune cripto esempio polkadot su ledger come no in in che modo si possono detenere escludendo gli exchange ma in realtà sui wallet delle coin stesse sui wallet nativi cioè di solito le principali sono supportate da tutti io sapevo che ledger supportava polkadot scusa ledger polkadot ledger support c'è anche lo staking addirittura si lo supporta ledger polkadot da poco ma sì e comunque no tornando alla domanda se non vengono supportati da ledger da tresor eccetera ci sono i loro wallet nativi che di solito poi sono integrabili in qualche modo anche con ledger e tresor quindi di solito non è un problema se mai non è supportato da ledger live ledger non supporta kusama per la crowd loan peccato ah e per la crowd launch a kraken mi pare che sia abbastanza semplice da utilizzare per anche per per i newbie per i più newbie allora una tua opinione sulle aste che avverranno su polkadot potrebbero essere un trend quindi partecipare a tutte io vorrei partecipare a tutte però secondo me sarà molto molto difficile però magari se andiamo un po in ritracciamento potrebbe non essere così difficile voi pensate se nel ciclo scorso che era un ciclo di ribasso prima di questo bull market se si fosse riusciti a prendere e tenere tutte le principali coin de fai che numeri avremmo fatto ecco quindi io ragiono così no quando penso al fatto che siamo in bear market penso alle opportunità che questo può dare per il futuro a me piace vederlo in questo modo ciao luca volevo chiederti se ad esempio compro 100 cake per metterli in staking e contemporaneamente apro una posizione short di 100 cake su ftx l'eventuale guadagno dello staking non è gratis cosa mi perdo niente ti perdi perché è una strategia che funziona è un edging della posizione quindi tu con lo staking guadagni la rendita e però sei coperto dalla variazione del prezzo del sottostante l'unica cosa attenzione che potresti andare incontro se shorti su ftx che c'è solo il perpetual al funding quindi fai attenzione al funding che non sia troppo contro di te ok in questi giorni sto usando per la prima volta earn su crypto.com sarà concordo appieno su che cosa ciao luca dei link su che vorrei mandare su binance qual è il modo più come che sarà ancora crypto.com perché altrimenti ti blocca il messaggio il modo più conveniente è dunque se non erro convertirli in una coin a basse fee mandare su binance e riconvertirli in link perché poi c'è lo 007 per cento di fee su binance 75 e quindi direi direi che è quello altrimenti non so quanto costa il prelievo di link ma essendo rc20 secondo me costicchia ecco allora un'occhiata elongate lo so che lo odi non ci penso neanche mi spiace ma questo è veramente troppo che ne pensi di ada allora è quello andiamolo a vedere perché ultimamente stava andando bene oggi è un po inciampato con rischio di engulfing bearish però comunque è un trend molto bello quello di cardano al momento allora abbiamo rotto da poco una resistenza settimanale veramente importante 3840 e adesso stiamo un attimino ritracciando purtroppo sul daily ha fatto engulfing bearish che è quando c'è una candela rossa più grossa della verde precedente questo potrebbe magari poi portare a fare un lower low e andare a ritracciare un attimino non lo so adesso di punti d'ingresso non ne vedo perché è iper esteso e la situazione è quella che è quindi entrare forse un pelino forzato lo aspetterei un po più giù in zona 3840 ed intorni vediamo se c'è si guarda c'è anche un po di shadow da usare come entry quindi fino a 4190 è un'area che volendo si può sfruttare per appunto entrare su questo rimbalzo poi 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 dunque 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 vediamo se ce la facciamo hai qualche fonte dove informarsi sulla defy hai fatto video a riguardo si ne ho fatti tanti di video a riguardo avevo visto porco cane non mi ricordo più dove forse su zerion sulla su zerion c'era help center c'erano dei bellissimi articoli porca miseria forse non era zerion ma era l'altra che si chiama ho un vuoto di memoria che c'erano dei bellissimi articoli da per vediamo da per defy eccolo qua vediamo se la memoria non mi inganna zapper però non dashboard io volevo andare a vedere no niente mi rimanda qua volevo andare a vedere learn eccolo forse l'ho trovato non docs learn ci siamo eccolo qua guarda l'ho trovato questo è purtroppo in inglese però sono dei bellissimi articoli che spiegano tante cose sulla defy dalla base alle cose un po più avanzate ve lo condivido più che volentieri eccolo e a parte questo ci sono vabbè i miei video che ho fatto in italiano chiaramente e poi su defy pulse c'è il blog che è un'altra fonte veramente valida blog eccola il blog di defy pulse ogni tanto escono degli articoli con le novità io cerco di leggermele sempre e poi ci sono un sacco ma veramente un sacco di canali youtube i miei preferiti ve li dico anche sono dunque 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 allora bankless si chiama questo bankless che fanno dei podcast ogni tanto e poi defiant the defiant questo qua che anche lui fa un sacco di video su non solo defy in realtà però molti sono sulla defy ad esempio l'avevo avevo guardato da lui quello su anchor mirror protocol terra eccetera eccetera ci sono dei gran bei contenuti comunque torniamo a noi queste erano un po le fonti sul mondo defy poi 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 allora vai su rif luca grazie mille andiamo a vedere rif rif bitcoin allora rif bitcoin che aveva fatto a guarda lo sta ancora lateralizzando qua sopra e purtroppo mi spavento un attimino la situazione complessiva altrimenti questo sarebbe un setup long questo sarebbe come lo era quale avevamo identificato qualche live fa ricordo che era c'era questa candela rossa in atto avevano detto un setup long lo è ancora perché sta accumulando sopra una resistenza rotta se non fosse per l'indecisione di bitcoin che cioè ragazzi a me aprire posizioni adesso speculative c'è il mercato che è un po troppo instabile un po troppo indeciso e quindi non sa cioè diventa veramente c'è una componente aleatoria non indifferente se non ci fosse quello questo sarebbe sicuramente un setup long lo rimane lo stesso però ve l'ho detto c'è quella componente in più lì che è un po rognosa poi ciao luca in bitcoin vedo un enorme test e spalle con neckline discendente cosa ne pensi abbiamo rotto la neckline se la ritestiamo vendo allora è vero sento parlare a molti di questo setup del test e spalle rovesciato questo qui in sostanza tac e a me non non lo so al di là del test e spalle di tutto il discorso è io tengo d'occhio il range questo range qui è vero ci si può dire che c'è un test e spalle rovesciato ma più che il test e spalle rovesciato abbiamo tre massimi crescenti e poi abbiamo il primo massimo decrescente quindi questo è la una sorta di inizio di inversione di trend quindi effettivamente nel breve l'andamento non è bullish non è non è una novità questa però dal punto di vista un po più ampio finché tiene questo range qui comunque a me da vedo la possibilità di tener duro ecco questa è il mio è la cosa che seguo per per vedere se vendere o no se coprirmi o no poi dunque 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 su polkadot c'è centrifuge che sembra interessante devo devo seguire un po di più polkadot perché ultimamente non ci ho più guardato più di tanto il tema della defi come posso sostenere quei rendimenti sulle stable coin e come stable coin stesse possano rimanere tali per sempre allora le stable coin sono fatte in modo da rimanere stable perché o sono ancorata un sottostante o sono algoritmiche quindi come dai si basano su un una leva di interessi di arbitraggi che le tiene ancorata al loro valore e hanno funzionato da sempre cioè su comunque delle fluttuazioni di prezzo altissime molto più di adesso e quindi hanno direi passato il loro banco prova mentre sul discorso della defi e i rendimenti i rendimenti sono dati dalla domanda non sono finti perché comunque la defi non è che modifica piacimento i rendimenti li va a modificare in base a domande offerta quindi vuol dire che è un periodo è stato un periodo adesso sono un po più bassi in cui era veramente veramente alta la domanda per il i servizi della defi cosa ne pensi di cardano allora graficamente bene molto bene dai punto di vista fondamentale ragazzi io mi spiace ma sono sempre della mia idea che è molto sopravvalutata molto sopravvalutata perché di fatto di fatto prodotti non ne ha defi non c'è smart contract neanche ed è veramente molto alta in classifica sopra solana per dirne una e quindi è il mio punto di vista e ve lo dico come faccio a vedere i prezzi di un token che esiste solo su dex il prezzo cambia di tanto da dex a dex o gli amm li sincronizzano guarda di solito se è una coin abbastanza liquida i dex sono sincronizzati tra loro mentre per il discorso dei grafici ci sono alcuni siti dedicati tipo c'era pucoin per le shitcoin com'è che si chiamava pucoin.app una roba del genere che va a far vedere i grafici delle shitcoin sui dex altrimenti sulla bsc però ok price charts ci metti dentro il nome del token e ti dà il grafico e su ethereum dovrebbero esserci già su trading view quelli di uniswap se non erro mi pare proprio di sì tipo scusate eh volevo vedere eh guardo uniswap uniswap ci sono quelli di uniswap e quindi questi ci addirittura c'è anche l'address si può incollare l'address poi puoi fare analisi tecnica su shiba inu certo che sì ma adesso la vado a fare davvero shib ust beh notevole dai un bel andamento oserei dire non c'è male eh non c'è male intoccabile guarda che roba cioè atroce questo grafico è un downtrend continuo e direi che non c'è non c'è motivo per acquistarlo ma dogecoin invece andiamo a darci un'occhiata cosa combina dogecoin pure dogecoin dunque ha fatto un rimbalzo su questa zona di supporto e poi ha trovato un high qua sopra e adesso boh chissà cosa vuole fare se vuole lateralizzare o tornare qua giù e poi andare di nuovo a ribasso non lo so una bolla è anche dogecoin una bolla bella e buona allora ciao Luke ben ritrovato che ne pensi dei fondamentali di Algorand è stata fondata dal professore italiano dell'MIT Silvio Micali potresti gentilmente anche dare un'occhiata al grafico guarda ne ho sentito parlare molto bene ma io purtroppo non l'ho mai approfondita più di tanto perché non so c'è sopra qualche applicazione interessante ditemi voi io sono ignorante su Algorand e andiamo a dare un'occhiata al grafico Algo BTC a parte lo staking so che era una delle coin interessanti dal punto di vista della strategia staking più short di copertura perché dà una buona percentuale in staking il grafico purtroppo non è molto incoraggiante perché è spiaccicato qua giù e quindi non non mi piace non non mi dice nulla cioè se rompessimo qua 3000 satoshi si si potrebbe andare ad abbozzare un trade fin quassù però lascia un po' il tempo che trova non non mi dice nulla ti dico cioè sarò sincero dunque cosa ne pensi di safe moon super mega turbo giga shit coin ciao luca quali sono gli amm che utilizzi grazie ma guarda dipende dipende per fare trading pancake swap uniswap trading per acquistare uniswap l'avevo usato per andare ad acquistare il defi più il sindex ad esempio e pancake swap lo uso per fare scambi per poi andare a dare liquidità principalmente uso curve perché do liquidità su curve avevo usato anche balancer in passato però ho smesso di cioè non lo sto usando più ultimamente e l'ipsis poi cos'altro stiamo usando di bello adesso farò anche un video qualcuno me lo diceva aggiornato sui miei investimenti perché c'è un po' di di roba fresca e nuova quindi li andremo a vedere meglio e poi vabbè ovviamente quelli di sola radium di solana che è anche quello mi ci sto divertendo molto e anche adesso devo mettermi a provare quelli su matic perché ho visto che c'è sushi swap su matic e voglio assolutamente provarlo allora faresti un tutorial sugli strumenti a disposizione per scegliere le migliori lp stake e le altre opportunità di rendita tenersi aggiornati diventa sempre più complesso con tutto quello che si può fare c'è bisogno di filtrare qualcosa grazie mille è vero è vero è vero dunque io ne avevo fatti un po' in passato ero rimasto ellipsis e quelli lì avevamo fatto no che però io cerco sempre di proporre quali più cauti cioè non quali con i py esorbitanti con i 2000 per cento e robe del genere quindi non lo so non quali non sono da me ma quali più stabili solidi ve li propongo sempre siamo sempre rimasti anche abbastanza aggiornati e poi se mi seguite anche su telegram lì ad esempio vi ho pubblicato anche la quando era uscito sushi swap su matic con ottimi i py ve l'ho pubblicato anche lì e quindi insomma se cerchiamo di stare sempre sul pezzo senza proporre quelli troppo esagerati one inch ecco one inch ottimo anche quello assolutamente ottimo e dunque intanto ringrazio chi si sta abbonando al canale vedo che ogni tanto c'è qualche abbonato io ci tengo sempre a ringraziarvi perché è un piccolo favore una piccola donazione nei miei confronti e se avete amazon prime è gratuita e quindi vi ringrazio veramente di cuore a chi usa il suo abbonamento regalato da prime per me allora avendo 0.3 btc che mi consigli ho 10k busd che potrei investire ancora in btc amico mio non so veramente cosa dirti perché devi avere un po un'idea più chiara mi sa devi devi un po capire quanti btc vuoi avere che allocazione vuoi avere cose del genere ecco non te lo posso certo dire io cosa ne pensi di fa che è un nuovo una nuova shit coin anche quella che ho visto che è saltata fuori oggi non è cosa ne pensi cosa devo pensare ma c'è anche da pensarci per davvero allora bitcoin è ancora da considerarsi un asset decorrelato per me sì dal resto del decorrelato al 100% no però comunque sicuramente a meno correlato che gli altri asset della finanza classica tra virgolette cosa ne pensi di dt circle a me sembra uno scam dt a me fa ricordare lo scam mi pare proprio che sia uno scammolone poi 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 vale la pena fare dei pack su bitcoin ed ethereum e beh per me sì cioè se ci vuoi investire sul lungo termine sì io sono assolutamente di quest'opinione c'è più volume in questa chat che nell'order book di gamestop a fine gennaio cosa ne pensi di revuto token puoi darci un occhio paura sia uno scam perché è super scillato in molti forum revuto token mai sentito nominare mai 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 sentito nominare revuto nuovo airdrop ah cos'è su cardano che cos'è sta roba sulla blockchain di cardano sarà vediamo forum.cardano.org dunque 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 una dap per essere operativa è una delle prime dap su cardano non lo so devo informarmi non non sono sicuro io non lo so se è uno scam oppure no cioè bisogna bisogna seguire un po magari qualcuno che segue il mondo cardano lo sa ci può condividere la sua opinione potrebbe essere utile diteci 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 è domani l'airdrop ah ma c'è un airdrop quindi addirittura ciao liux entra grandissimo cosa ne pensi di mercur finance mer quella di è assolutamente una bomba quella lì quella su su solana io avevo provato a partecipare alla ie o ma molto difficile e sto aspettando che arrivi su radium perché su radium arriverà il pool nei fusion pool dovrebbe arrivare eccolo qua uno di questi finita la ie o che ci sarà anche qua su radium tra l'altro la ifo scusate e dopo la ifo ci saranno i pool dove si potrà farmare secondo me ci saranno degli ip1 interessanti visto che poi il buon vecchio ftx metterà la possibilità anche di di shortarla perché sicuramente la lista a tempo zero sarà sicuramente un motivo per andare a partecipare al pool anche coprendosi volendo allora adesso io vado a vedere un paio di grafici perché porco cane 58 minuti già verso la cognizione del tempo siete in talmente tanti poi oggi qualcosa giusto un paio di domande su doggo vedevo secondo me siete tutti un po doggati e lasciatevelo dire doggo abbaglia con noi e sì abbiamo anche fatto cresciare il server di doggo allora 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 con un sito del genere mamma mia partiamo da bitcoin col settimanale guardate anche il settimanale fa chiarezza perché abbiamo avuto un andamento un po atipico nelle ultime settimane abbiamo avuto un la definizione tempo zero del low questo è il nostro low 44 mila e 8 facciamo 45 mila e pool di domanda sottostante poi da qua abbiamo creato i nostri higher high abbiamo creato questa questa bruttissima questi bruttissimi tre higher high tutti vicini tra loro ne avevamo parlato anche nelle scorse live che non erano proprio bellissimi da vedere poi ci siamo spiaccicati in questo range qua in alto l'abbiamo rotto a ribasso e la domanda ha fatto assorbire tutto subito qua era ancora iper bullish la situazione poi scorsa settimana babababam così questa chiusura è brutta perché ha sancito di fatto un lower low effettivo follow up di questa settimana all'attacco del nostro supporto a 44 mila io ormai vi ho già detto tutto prima perché questo supporto è ciò che definirà il prossimo ciclo di mercato quindi definirà se andiamo in inizio bear market oppure se ci riprendiamo nello specifico se noi andiamo adesso è in questo in questo immediato ad assorbire subito il tentato dump cioè rientriamo dentro allora addirittura si potrebbe azzardare quasi setup long qua giù con primi take profit 1 2 eccetera eccetera altrimenti se noi chiudiamo qua sotto si potrebbe azzardare quando rientriamo il setup long se rientriamo se invece prima di rientrare andiamo a flettere anche qua sotto a perdere quant'altro allora lì poi io mi spiace ma inizio a cercare lo short di copertura alla prima flessione rialzista quindi se noi perdiamo in maniera definitiva e certificata il nostro 44k in fila per 6 col resto di 2 io vado a aspettare la flessione rialzista che ci sarà vedere dove andiamo a rimbalzare e a costruire una posizione di copertura ok tanto più andiamo a finire in basso e tanto più la probabilità di aver perso definitivamente il supporto aumenta e quindi insomma bisogna comportarsi di conseguenza l'idea è questa proprio che più è probabile che perdiamo il nostro range e più ci avviciniamo al bear market perché se questo range diventa un top noi invertiamo abbiamo fatto l'inversione questo è un costrutto di top se invece è ancora un po un punto interrogativo quindi stiamo qua dentro rimbalziamo ma poi c'è domanda rientriamo qui dentro e poi riscendiamo non si capisce cosa fare allora lì secondo me non vale la pena andare a esporsi short su quello che potrebbe essere un supporto importante perché quest'area è l'ultimo supporto importante e andarci ad aprire degli short sopra cioè o lo si faceva prima speculativamente al lower high o ad altri altre situazioni simili ma farlo ora che siamo su un supporto importante non credo che ne valga la pena ecco forse vale più la pena allora aspettare la perdita definitiva di tale supporto per coprirsi così eventualmente la copertura andrà incrementare il nostro stack di bitcoin e la nostra posizione nel tempo quindi lo scenario bearish nonché più probabile al momento perché vedo molta pressione in vendita è esattamente quello di perdita 1 perdita 2 cioè questi due fattori rafforzano lo scenario bearish lo scenario bullish è il recupero al momento di questo low ok quindi assorbimento e recupero del low l'assorbimento da solo potrebbe essere un inizio di ripresa ma non sufficiente perché ci dovrebbe confermare quantomeno con un doppio minimo oppure riprendiamo sweepiamo ancora e rientriamo a fare un equal high perlomeno per iniziare a costruire sul breve un costruttino di bottom allora lì ci potrebbe stare ma altrimenti purtroppo non basta basta per il setup aggressivo non basta per il setup un po più cauto per quello secondo me c'è questo punto di riferimento anche perché se adesso per dire ritorniamo qua e poi andiamo a fare un higher low anche qua in questo caso iniziamo a fare un bottom capite bisogna cercare un po queste cose qui con l'idea che siamo su un supporto molto forte molto importante il cui esito è assolutamente definitivo e secondo me il mercato lo sa lo capisce e quindi agirà di conseguenze ci farà un po capire le intenzioni che ha questo è tutto su bitcoin perché abbiamo già detto tutto il resto prima se rientriamo nello scenario bullish siamo di nuovo all'interno del range e ritorniamo a prima del cioè a qua prima del dump non non è che sia cambiato molto in negli ultimi giorni al di là del tentato attacco a quest'area cioè c'è stato il ritracciamento da range high a range low che ha una dinamica abbastanza normale in un range quindi non c'era da stupirsi più di tanto cioè come qua abbiamo fatto i tre higher high qua abbiamo fatto tre lower low ma senza abbandonare il range cioè quindi prima di perdere il range stesso io non mi starei a fasciare la testa davvero sono non voglio essere eccessivamente bullish magari ultimamente lo sono sono un po biased da questa parte però questo è il decisore per me l'approccio con range poi andiamo a vedere ethereum che in realtà l'abbiamo già visto poco fa e abbiamo visto che anche in questo caso la situazione non non è minimamente bearish perché di fatto abbiamo sì un clusterino qua dentro a 0076 la prima resistenza ecco che avevano detto qua potremmo flettere e al momento sembra che abbia intenzione il supporto settimanale più importante sotto a 0072 e quindi adesso c'è da vedere come si vuole comportare tra questo e questo livello quindi il primo che viene perso determina il possibile andamento poi dei giorni seguenti però attenzione che è verticale quindi io non starei più di tanto a cercare l'entry ma in generale in questi giorni finché non c'è un attimino di chiarezza sulle intenzioni di bitcoin io non mi metterei a cercare di aprire posizioni in maniera forse nata perché basta veramente poi un inciampo di quelli seri di bitcoin un altro flash crash che ti va a prosciugare tutto il mercato al coinio sono un po di questa opinione non non affretterei le cose aspetterei di vedere come come stabilisce come approccia bitcoin con quel livello lì alla fine è questione di giorni deve farlo ora e poi da lì si definirà un po anche il resto del mercato nel frattempo solana ha fatto all time high non so se avete visto ma solana usd continua a fare degli all time high se ne strafrega di tutto il resto e di tutti anche kusama ha fatto dei bei nuovi massimi ma proprio perché comunque c'è il crowd long ci sono c'è un po in al centro dell'attenzione e kusama in questo periodo e anche qua ha fatto un retest da manuale che è stato pazzesco e quindi a matic è un altro che al centro del mirino e continua a fare higher highs e non non vede neanche un rallentamento pazzesco matic mi spavento un attimino è dico la verità un po troppo esteso per i miei gusti però molto bene ma perché la defi su matic ragazzi sta esplodendo è il l'ecosistema più interessante da tenere d'occhio al momento senza se e senza ma se fino a poco fa seguivo forse natamente solana adesso mi sa che mi metto a seguire forse natamente il mondo matic bene amici io direi che possiamo salutarci dopo questo questa ora e passa passate insieme abbiamo visto un po di domande un po di cose stavo vedendo giusto le ultime cose che stavate chiedendo ma mi sa che per queste ci rivediamo mercoledì perché altrimenti non finiamo mai come investire su dpi senza pagare le fidi ethereum secondo me su matic c'è 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 cosa sei andato a fare a praga furbacchione ragazzi c'ero andato in gita al liceo è una è una felpa che ho dalla gita del liceo questa grossissimo valore affettivo perché è stata una delle gite più belle dal punto di vista ovviamente del delirio perché è stato un delirio assoluto e quindi niente era così giusto per la uso ogni tanto come pigiama ma è da tanto che non vado a praga comunque gran bel posto ve lo consiglio e detto questo noi ci salutiamo vi faccio di nuovo un carissimo saluto noi ci vediamo questo mercoledì verso le 19 vediamo e fai un video sulla gita ormai guarda non ricordo nulla di quella gita è assolutamente tutto fuori dalla mia memoria ti ho preso benissimo ragazzi alla prossima di nuovo un carissimo saluto attenzione a quel supporto di bitcoin perché tutto dipende da lì e ilo smettila di twittare qualcuno tolga twitter a quell'uomo perché altrimenti è veramente incontrollabile più incontrollabile di una shitcoin amici alla prossima